show 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 a tutti i ragazzi sono vero con noi oggi sono tornati intonati il coro ultimo il sogno eravamo rimasti che stavamo alle scale non mi ricordate a cui le scale laghi c'era un po o leggo qui c'è il mio ho appena ucciso stuprato e ho tagliato ho fatto un po' da una partita perchè non ce la facevo da arrivare fino a qua perchè troppo difficile insomma e carlina non voglio prendere non so che se però io volevo cadere allora ragazzi questo gioco potremmi sapere se questi due che mi sta a piede non è vero che è in fondo dai ma non dice questo non si può e uuu bravo il tiro Allora... Questo credo che dovremmo andare a farlo ... ... ... ... ... ... ... c'è il fattore non c'è male non c'è mai capito il concetto ci provo a posto, madonna me che qui madonna santa che qui ok ok allora allora ok oh merda mi sono bloccato solo la ok ok quello di prima ok 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 a postissimo ci siamo abituati ragazzi oh percola che ragazzi ecco vediamo che è strano che le persone non ci sia ecco 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 che ci siamo tutti personaggi c'è uno di colore per non dire nero per non dire nero per non dire nero ecco ecco perché c'è questo qua che sta nell'unc invece dovrebbe stare nel mob cioè sta nel mob però l'hanno messo nell'unc lo and ah si merda Ho pelato di brutto Ma no, da Non ho notato gli altri albataggi ma l'ha un'altra storia Allora ragazzi dicevamo Eccolo a capo Cazzo cazzo se ne muore l'amica collega No, non li ho mai fatto Io ho fatto Oh, non li hai Non cazzo cazzo Cerchiamo di rinascere un po' Non mi dovrei riportare Questa cazza, infatti Cazzo cazzo, bravo Dove l'altro Ok siamo ritornati Adesso non dobbiamo fare più errori Non è giornata Oggi è la giornata di fail Internazionale Sembra che dovrò tagliare un po' di parti qua Allora Questo abbiamo all'esterno qua Come cadevo? Che cadevo perché era un ragazzo Mario Che cosa è vero? No, non mi rompere con le notifiche Mezza vita mi ha torto Ma tua madre è proprio vacca Ma guarda qui non c'è più la notifiche Ok ragazzi Secondo me è meglio che salviamo questo qua Se andiamo a spiattare è proprio qua E' una misura E' una misura E' una misura Una misura E' una misura Ma? E' tutta qua che saltava Ecco qua l'uomo avvicinati l'uomo ottimo è caduto perfetto perfetto no si no mamma mia puttella ok ok al posto sul divano di video che l'orgia che ce ne sono allora no non penso che sia una potenza no no questo non è un po' ma quella non era capito poi penso nella cosa dei mob ok ok non ci muove anche per me anche per il che perché se no non ci sono anche per me ok dai 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 oh prendo vabbè 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 mi 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 cosa mi 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 si riporti ok a posto ragazzi ok Penso che il video termina qui perché ho fatto una missione intera, dico intera, e faccio rispoiler la prossima zona della missione. Ok ragazzi, siamo praticamente nella merda perché siamo nel territorio dei mod. Io salvo, ci vediamo alla prossima. Ciao.